A Dio Fefei, celebrati i funerali del giovanissimo Federico Nasello, una folla commossa all'eseguo del ragazzo morto in un incidente autonomo in via Lapira sabato corso. Colpisce al volto la moglie con un tablet, arrestato il marito, l'uomo, un meccanico quarantenne, ha provocato gravi fratture alla mascella e al naso della donna, una trentenne che era montana. Le cene di San Giuseppe, ben 15 le cene inviandite con predibetezze in onore del patriarca di Santa Croce Camerina. Sono stati celebrati stamane nella chiesa del preziosissimo sangue del capoluogo i funerali di Federico Nasello e il ragazzo ragusano morto in un incidente autonomo sabato mattina in via Lapira a Ragusa. Il 17enne ha perso il controllo dello scooter zip che guidava e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione. È morto pochi minuti dopo il ricovero in ospedale a causa di una gravissima lesione alla colonna vertebrale. Giuseppe, ben 14. Grazie a tutti. 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 Per fede e devozione al patriarca San Giuseppe. 15 cene imbandite con mille prelibatezze e pietanze tipiche di Santa Croce Camerina una festa all'insegna delle tradizioni più genuine e soprattutto più autentiche questa cene è stata fatta per richiamare un attimino le tradizioni di una volta che purtroppo oggi se stanno andando indietro è quasi tutti infatti possiamo contare che le cene sono pochissime oggi e quindi mi è venuto tipo un sogno di rifarla che mi ricordo da piccolo veniva fatta poi è stata trascurata e quest'anno abbiamo ricominciato pane, biscotti, dolce che preparavo la sera le infornavo la mattina, era sempre una cosa completa ho avuto dei miei cugini che mi hanno dato una mano perché è certo che a quantità era sale abbiamo collaborato a fare tutte queste cose perché tutti insieme perché c'è stata una promessa, lo dico io la promessa del suo figlio per la mamma che stava male Circo del Tennis, campionato di Serie C sia al maschile che al femminile squadre molto competitive già la maschile ha pareggiato con il Monte Catera tra i tre un risultato importante ora domani c'è il doppio impegno maschile e femminile guarda, ti dico subito che noi puntiamo alla promozione con la squadra femminile noi abbiamo una squadra attrezzata benissimo perché abbiamo Emilio Occhipinti e Veronica Napolitano che sono due fuoriclasse assolutamente nella categoria e quindi puntiamo alla promozione per quanto riguarda il maschile la scorsa domenica abbiamo pareggiato con la squadra che dovrebbe vincere teoricamente il girone e quindi pareggiando abbiamo fatto un ottimo risultato se domani si va anche qui alla vittoria allora potremmo sicuramente passare il turno hai presentato la squadra femminile, il maschile ci sono anche rinforzi il maschile sì assolutamente perché abbiamo Marco Gulisano che è un 2-6, viene dal Monte Catira e quindi ha rafforzato notevolmente la squadra perché gioca a numero uno e quindi difficilmente perderà delle partite, degli incontri gli obiettivi sembrano ambiziosi costituire una formazione femminile di hockey su prato al momento le giovani atlete non partecipano ad alcun campionato e si allenano nella struttura sportiva di Santa Maria Lanova a Ragusa Ibla ovviamente le ragazzine in pochissimo tempo stanno crescendo in una maniera mostruosa perché comunque sia per l'impegno nostro e dell'altro ragazzo sia per l'impegno delle ragazzine che a un allenamento non solo saltano lo fanno sempre con il massimo impegno e l'unica cosa che le ferma è che non possono partecipare a un campionato perché non hanno un campionato dove partecipare un campionato contro cui giocare contro altre squadre e quindi l'unico modo che hanno per giocare è fare torni amichevoli quindi un po' alla fine giustamente le ragazzine diciamo quando non giochiamo non giochiamo però alla fine con i torni amichevoli i risultati sì negativi però con prestazioni grandiose cioè di ragazzine che giocano da un anno non ci arrivano a questo livello è difficile sì, l'unico fattore che forse le blocca è il fattore campo che giustamente allenandosi in un campo così piccolo e poi andando a giocare in un campo un po' più grande in sintetico, giocando e allenandosi in coinciamento forse le bloccano però alla fine loro la voglia di giocare, di vincere ce l'hanno, non le fermano Uno spazio espositivo curato da Medeo Fusco in una location d'eccezione come il centro commerciale Le Masserie di Ragusa sono le opere dell'artista ebleo Lucio Morando Sin da quando ci siamo incontrati la prima volta che sono riuscito a vedere le opere di Lucio Morando sono rimasto subito colpito da questi colori da questa forza, da questa energia che Lucio riesce a mettere nelle sue opere lui penso sia solo tramite dell'arte che lo possiede e attraverso questo suo corpo, attraverso le mani riesce a intingere sulle tele, sulla carta l'energia che qualcuno, non lo so da dove, gli manda in effetti si vede che sono tutte opere di getto opere che non sono costruite con un disegno tecnico e specifico perché secondo me è pura ispirazione nel momento in cui lui si mette a creare si capisce guardando le sue opere che è ispirazione pura, quindi è arte pura le opere di Lucio Morando sono esposte ormai in diversi punti presso il centro commerciale Le Masserie e poi sono esposte all'antico convento a Ibla e poi sono esposte anche a Poggio del Sole Resort stiamo lavorando per cercare di divulgare l'opera di Lucio Morando attraverso delle altre iniziative che faremo in provincia e non solo in provincia è una cosa importantissima stiamo lavorando alla sua prima personale perché penso che le opere di Lucio Morando devono essere visionate anche insieme cioè insieme sia con gli altri sia con le altre opere diceva bene Amedeo che le mie opere non hanno un progetto non nascono perché debbono raggiungere qualche fine qualche cosa da fare vedere ma nascono spontanea alle volte mi sento tranquillo ad un certo punto mi succede qualche cosa e ho la necessità di salire perché dove vado a dipingere è un posto dove si sale appunto c'è qualche forza che effettivamente riesce a portarmi lì sopra e con il materiale che mi ritrovo in quel momento riesco a fare quello che nemmeno io pensavo di fare poi mi fermo evidentemente magari la metto da parte ma non la vedrò per anni da un po' di tempo con Amedeo invece riesco a vederla perché lui regolarmente me le espone e così sono diventato anche un fruitore delle mie opere e francamente me ne sto innamorando anch'io pian piano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti